Benvenuti e ben trovati con questo turno 94 Drip marketing signori Dovrei fare una specie di sognitta ogni volta che Con una campanella quando parte il drip marketing Signori sono stati annunciati i personaggi I primi tre personaggi di Natlan E erano quelli che sono stati fatti vedere nel trailer iniziale Sapevamo, immaginavamo E sappiamo anche qualcosina riguardante il loro ruolo Diciamo di concetto Sappiamo anche qualcosina E sono di tre tribù ben diverse a quanto pare Ed è molto interessante questa cosa che siano i tre tribù diverse Quindi il fattore che nel primo trailer con i draghi, con i sauri C'erano tre sauri specifici Nel secondo trailer c'erano questi tre personaggi specifici E nell'ultimo trailer ci sono stati altri personaggi Però il fattore che siano apparsi tre personaggi Legati specificatamente allo stesso elemento di quei sauri Era chiaro che fossero legati alla tribù stessa di questi tre personaggi Ma andiamo con ordine Allora, il primo personaggio che ci è stato mostrato Ovviamente è arrivato da Twitter Non voglio parlare della polemica che ci sta su Twitter Lo sapevo che l'avrebbero fatta Non ne voglio entrare a parlare Semplicemente io dico la solita storia che dico Se non vi piace quello che ci sta dentro Invece della vent'abbia a rompere le scatole agli altri che ci stanno a giocare Perché alla fine Non andate neanche a attaccare I sviluppatori andate ad attaccare Gli altri giocatori per lo più Perché riempite i loro feed con ste robe Non ci giocate Se non vi piace non ci giocate Va bene? Perché poi mi sembra ipocrito giocarci lo stesso Non statevi lamentate in continuazione Come io con smite Io smite l'ho lasciato raga Ce l'ho installato Se mi invitano a giocare Prima o poi ci rientrerò Però per il momento io ce l'ho là E non ci sto giocando Faccio le news eccetera eccetera Però per il momento non ci sto giocando Perché non vi piace quello che ci sta al momento Quindi In realtà mi piacerebbe giocarci in questo periodo Perché c'è una bellissima faccia Però Quindi insomma Avete capito il mio punto di vista Ora Abbiamo due articoli su twitter Ciascun personaggio E iniziamo col primo personaggio Che hanno mostrato Mualani Spir Splash With Chaser Metzly Guide Metzly Guide è la sua Tribù a quanto pare E a quanto pare Lei è letteralmente Come dice il nome Una guida È una specie di guida turistica Slash Riguardante le tradizioni A quello che ho capito È una catalyst user Hydro Non so che Rarità Però da quello che ho capito È un DPS Questa volta Quindi non Probabilmente non avremo Di nuovo Kokomi Non avremo un'altra Kokomi O un'altra Barbara Ma avremo un catalyst user D'Hydro DPS Questo mi spiega Perché una persona che conosco Mi ha detto Che palle Volevo tenermi De Gemme per un po' Stima volta che esce Gioli e invece Vaffangiro Esce fuori un personaggio Di Natal Che lei adora L'Hydro Quindi Ma parliamo Vediamo il primo Da tutto In termini di Quanto bene conosco Natal Forse anche gli uccelli Che non osservano Questa terra Dall'altro Non sarebbero All'altezza Delle guide Del popolo Delle sorgenti Che presumo sia Yes Molto molto tempo fa I loro processioni Misuravano Il mondo Con i piedi Trasformando Sentire tortuosi E pericolosi Che pericolavano Le reti Di linee Ordinate Le loro mappe Come membro Della nuova generazione Di giovani guide Del popolo Delle sorgenti Che probabilmente Sarà Anche un altro nome Per la loro Diciamo La loro tribù Molani si è già fermata Con un nome Eminente In tutta Natal Con lei Ad aprire la strada Potrai essere sicuro Di vivere La vita spettacolare Delle eruzioni La vista Non riesco a leggere Oggi sinceramente Sotto tutto Stanno problemi Con la rete Non posso accendere Con le direzione In questo momento Sto schiumando Perché Fa caldo Come penso Tutta Italia Potrai essere Sicuro Di vivere La vista spettacolare Delle eruzioni Vulcaniche Respirare La rinfrescante Fraganza Naturale Dei fiori Embercore E persino Assiste L'esibizione Spontanea Dei branchi Di colosauri Che sia Il nome Di qualche Razza Specifica Di sauro Forse Quello Dal colo lungo Gigantesco Ma allo stesso modo Se ci fosse Un'emergenza Avessi semplicemente Bisogno Di essere Urgentemente Da qualche parte Lei troverbbe Una scorciatoia Per portarti Lì nel modo Più sicuro Solide Agevole Possibile Possibile Questa è una citazione Di muolani Tutti conoscono i percorsi Ti direbbe La stessa muolani Ma il tempismo È la chiave Non puoi partire Quando ne hai voglia Sarebbe estremamente Sfortunato Sì A quanto pare Poi lo leggeremo Nel secondo Capito Nel secondo post È molto fissata Con Le superstizioni E No con le Sì con le superstizioni E con La fortuna E il futuro Infatti si fa leggere In continuazione Il futuro Per sapere Se sarà una buona giornata Eccetera eccetera C'è un tipo di personaggio Che c'è una cosa del genere Non mi ricordo come si chiama Questo tipo di caratterizzazione Dove C'ha sta cosa Che Usa spesso Oggetti fortunati Si porta sempre Un oggetto fortunato E sente L'oroscopo Ogni giorno Dice L'oggetto fortunato Di oggi È questo Eccetera eccetera Però È interessante Il fattore Che sia una guida Che faccia parte Appunto di questa Questa Diciamo Gente Chiamata La popolo Dei sorgenti Quindi probabilmente Questo è anche Un altro nome Del De Il suo Nome Ora Mentre la sua Scheda principale Con nome Titolo Eccetera eccetera Dice Non c'è un singolo posto Entra in Tronatlan Che quella ragazza Non può raggiungere Se volesse Perché Quindi perché Continua sempre A cercare A venire da me A chiedermi Se C'è un buono spicio Ogni singolo giorno Ogni singola volta Beh ora che gli ho letto La fortuna Dei prossimi dieci anni Finalmente forse potrò avere Un po' qualche pace Un po' di pace E quiete Detta da una certa Ciclani Che Ciclani È quella ragazza Di Craio Che era reclusa Che era reclusa Che ha Che non voleva essere Disturbata Dalla palla Quella là Durante il trailer Delle fiamme Quindi Sappiamo che adesso Ciclani È una veggente Per questa è tanto reclusa Tanto sembra Molto diciamo Forse vede qualcosa Che siete Qualcosa del genere Nome Mualani Titolo Space Flash With Chaser Mezzini Guide Visione Hydro Costellazione Foca Neomancius Foca c'è scritto letteralmente P-H-O-K Quindi è come Foca Ma non credo sia Letteramente tradotto In questo momento C'è anche la traduzione Da costellazione In Foca Neomonaco Sembrerebbe strano Se lei avesse La costellazione Di una Foca E ha uno squalo Come Surf Sì Sembrerebbe abbastanza strano Ma andiamo avanti Il secondo personaggio Che riuscirà Della 5.0 È Kinch Kinch Sì Tourfire Hunt Yuzeline Sarian Hunter Questo è il suo titolo Quindi è Un cacciatore di fuoco Praticamente Al fuoco Di fuoco Cacciatore di Sauri Di Yuzeline Che Yuzeline Probabilmente È La sua La tesola tribù Quindi è un cacciatore Probabilmente Che insegue Sauri O cose così È una cosa di chiedere Un compenso Per la consegna Nella lettera Ma per far pagare Per essere Un portatore di fiamma Nella Tour Fire Knight È scandaloso È davvero Questo è il nostro eroe Non è che non è Trasolo oggi Sicuramente Ammetteresti che fa bene Il suo lavoro Questo è ciò che conta A Nathalem dove umani e Sauri Convivono nell'armonia Ci sono sempre stati Alcuni che hanno sempre guardato Con sospetti I cacciatori di Sauri In una terra piena di eroi La loro pratica Di valutare commissione E fissare un prezzo Rende la professione Ancora più comproversa Un assassino crudele Spietato a sangue freddo Pragmatico Ultilaristico Senza nemmeno un accendio Un'idecora In termini così spietati E dannosi Le persone descrivono Il giovane Che non li batte mai Ma che dire Perché il prezzo è giusto Tutte le commissioni Saranno soddisfatte In modo soddisfacente Tutti Gli aberranti Contorti e furiosi Tornano al regno della notte Da cui provengono Una volta che il portatore Del nome Turnfire Ha agganciato a un bersaglio Non può più essere Non si può più guardare indietro Quindi Turnfire Sembrerebbe essere Una specie di Specifico Aggettivo O titolo Ora E' interessante Che ci sia scritto Regno della notte Ovvero Che presumo ci sia Una traduzione In Night Kingdom Il regno della notte E' un'altra maniera Per dire L'aldilase Non sbaglio Della mitologia Azzega O mai Uno dei due Non mi ricordo Dove tutto diventa Ombra E c'è Lick Questo è un leak Che avevo letto Di un set di artefatti Dove C'è appunto Questa storia Della notte E' interessante Ed è un cacciatore Di sauri Quindi tecnicamente Probabilmente lui Caccia Specifici bersagli Non è che Probabilmente Caccia quelli più sani Ma caccia tipo Come dice Gli aberranti Quindi probabilmente Probabilmente Come in Fontaine Ci sono Dicevo Siccome Ci sono In Fontaine Gli aberrant Fontaniani Gli aberranti Fontaniani Che sono tutte Queste serie Di creature Che sembrerebbero Animali Ma in realtà Sono elementali Sono più quasi Elementali Ci saranno Probabilmente A Nathaland Delle creature Simili Per riempire Diciamo La fauna Della Arriginazione Senza Diciamo Essere Senza Inserire Troppo Animali Capito In che Mi ricordo Che devo andare A comprare Le reti Altrimenti Non posso Fare Bracconaggio Quindi Probabilmente In Nathaland Avremo una cosa Simile Lui è un Cacciatore Appunto Di questi Aberranti E altre cose Varie Che si fa Pagare Appunto Durante Questa Faccenda E Cioè Più spesso Citata Sta Turnfire Hunt Questa Cosa Della Fiamma Il Il secondo Ovviamente Il secondo Coso È Una Discreazione Il secondo Post Riguardante Kini C'è una Dicharazione Da parte Del sauretto Di Kulajav Il Grande Drago Signore De draghi Autoprogrammato Ovviamente Allora Che dice Questo Mio servitore Non è un Folle Non è un Scemo È Agile E Come se Qualsiasi Servitore Sia La Suo Grande Polpa O meglio Suo Grande Errore Suo Grande Difetto Che Non Imparta Quanto Ci Prova Quanto Ci Provi Non Riesci Semplicemente A levartelo Di mezzo Letteralmente Non Muore Non Muore A me Si è Sentito Di qualcuno Che cade Di testa Da Una Da Una Come si Dice Da un Dirupo E Sovravvivere È Incredibilmente Frustrante Quindi Probabilmente Questo Ragazzo C'ha Sa La cosa della notte In realtà Probabilmente È Relativamente Immortale Perché Ha Forse Collegamento Appunto Con L'aldilà O una cosa del genere Nome Kinich Titolo Turmfire Hunter Uitzlan Saurian Hunter Che Uitzlan Probabilmente È Il nome Della Sua Tribù Dendro Visione Ok E Costellazione Chimera Alebrius Oh Questa è interessante La chimera Però Che cosa intenderà Per chimera Probabilmente Intenderà Non la chimera Tradizionale Cioè Serpente Capra E leone Forse qualche tipo E Occhio La prossima è lunghissima Qualche tipo di chimera Però Il fattore che è collegato A sta cosa della notte E che sia tipo A quanto pare Quasi immortale È interessante Ripeto E non sappiamo Quali di loro Sia 4 stelle E quale sia 5 stelle Molto probabilmente La prossima che sto per parlare Sarà la 4 stelle Che forse avremo gratuita Ricordate come abbiamo avuto Gratuito con lei Probabilmente faranno La stessa cosa Anche qui Con magari Un personaggio di Natlan Per specificare Per spiegarci Magari Come funziona Il sistema Di Natlan Di Natlan Sì Di Natlan Quindi Forse lei sarà gratuita Di che sto parlando Ovviamente Se ho detto Dei tre personaggi Principali Del primo trailer Parlo di Cacina Cacina Il personaggio di Gio Non sappiamo Che arma abbia Però sappiamo Che tipo Kinnitch abbia La Claymore Forse di Dendro Ora Il problema È che c'è Un enorme Un enorme Muro di testo Stavolta Però Vi spiegherò In breve Cosa dice Probabilmente Descrive La ragazza Come Sebbene Sia cresciuta Tra La sua popolazione Tramite le gente Cosi così Ha Comunque Ha avuto La possibilità Di Vivere La vita Come giovane Come qualsiasi Altro bambino Che sì È ancora una bambina Ancora molto giovane E Praticamente Ha passato Giorni A A giocare Con i teppellini Sauri Cioè Quei dinosauri Che vanno nel terreno Che Ha Andato I luoghi Di Di Studi Di Registrazione Delle musiche E ha ballato Con i suoi amici Che però Nonostante tutto Ovviamente Ogni tanto Si fa male E quindi Lei piange Come piangerebbe Uno qualsiasi bambino Della sua età Mentre Rispetto Alli altri Però Rispetto Alli altri Bambini Lei è quella Che si rialza Subito Si asciuga Le lago E si rialza Subito E lei però Gli hanno dato Appunto Un titolo Utabiti Utabiti Che Lei non capisce Perché gli hanno dato Perché è un titolo Molto importante Vi leggerò Semplicemente Cosa C'è scritto Relativo a questo titolo Devo tradurvelo Un attimo Allora La paura stessa Dovrebbe essere Invece Temermi Perché il mio corpo No scusami Mi sono sparito Ovviamente Lei non capisce Perché gli avrebbero dato Questo nome Però decide Nonostante Lei Fallisca Questa cosa Cosa c'è scritto Il pellegrinaggio Del ritorno Nel far tornare Del ritorno Della fiamma sacra Allora Siccome c'è Sta teoria Che forse Sto torneo È una cosa Sportiva Nathlan Non è che Sta cosa Della fiamma sacra È tipo Una cosa All'olimpiaca Che è La fiamma Della fiacola Olimpica Simile Che ogni tributo Deve mandare Un scelto Per mandare Appunto La sua La fiacola Della Della tribù Con la fiamma Della tribù Non è che Una cosa Del genere E quindi Arriveremo Del tipo Che manca Solo la sua La fiamma Della sua Tribù E quindi Sarebbe L'ultimo Sigillo Una cosa In più Che ci è Stata detta Di questo Personaggio È che Lei fa Parte Dei Dei Giovani Cuore di Leone Credo Si Cuore Caroggioso Di Nanazkayan Questo nome L'avevamo Già sentito Nell'evento Dei Sauri Che ho Già parlato Più di una Volta Apparve Questo nome Nanazkayan Ovvero Anche detto Figli Delle Echo Che era Questo gruppo Di minatori Quindi sappiamo Che questo gruppo Nanazkayan Non è altro Che il nome Della sua Tribù Poi Abbiamo Ovviamente La sua Card Dice Non importa Quando Non molto Tempo fa Quando la L'incontrai La prima Volta L'ho vista Piangere E ho cercato Di dargli Il mio Fazzoletto Ma Sto ridendo Lei Ha detto Non ti Preoccupare Mi Asciugherò Le lacrime Da sola In quel momento Mi sono sempre Ricordato Che non ti Devi Preoccupare Per lei Quella ragazza È fatta Di Roba Forte E Semplicemente Dargli tutto L'incoraggiamento Di cui ha bisogno Questo lo dice Mualani Che probabilmente Queste due Nonostante siano Di tribù Diverse Sono molto amiche Nome Cacina Titolo Mottled God Yet Unsmelted Penso sia Oro Screziato Ma non Fuso In realtà Non credo Si Ti 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 Penso sia Oro Grezzo Non ancora Furgiato Non ancora Temprato Non ancora Lavorato Diciamo Nanaz Kayan Giovane Cuore Coraggioso Di Nanaz Kayan Visione Geo Costellazione Ociotona Princeps Ora Princeps Io sono sicuro Di averla Già sentita Sta cosa E non ricordo Dove l'ho sentita Ma io l'ho già sentita Princeps Sono sicuro Di averla sentita Non so dove Ma l'ho già sentita Non so se C'è da personaggi Che ce l'ho Oppure no Però l'ho già sentita Princeless Non so Se Qualche personaggio Deve ancora uscire No Aspetta No Sono piuttosto sicuro Di averla sentita Non so dove Sto se leggendo Tutte le Le costellazioni No Allora forse Non è qua E' uno di quelli Che non c'ho Forse Perché Ricordo di aver letto Una costellazione Simile Di qualcuno Non sei tu Perché tu c'hai L'Enerade Non è Chiori Non è Navia Perché Navia C'ha tipo La costellazione Navale Però Ricordo di averla Già sentita Da qualche parte Questa cosa Però Comunque Questi sono I tre personaggi Di Natran I primi tre personaggi Della Della 5.0 Quindi sarà Interessantissimo Vederli Che cosa Saranno fare Così così Già Drip marketing Da tre giorni Prima che esca Comunque no Non lo so Non lo trovo Che esca La patch Qua ci vorranno Ci vorrà mercoledì Io non pulerò Ovviamente per nulla Anche se Mi sarebbe piaciuto Magari pullare Forse Benilo Ma Non credo Lo farò Alla fine Della fiera O l'avevo già sentito Questo princess O qualcosa Non so dove Ma l'avevo già sentito Comunque C'è una fase per mostro Di questi personaggi Se puntate A uno di loro Probabilmente Qualcuno punterà Quello di Hydro Qualcuno punterà Quello di Dendro Qualcuno si aspetterà Ovviamente Sono tre personaggi Di cui Per forza Di cose Di solido Uno dei tre È un quattro stelle Quindi vedremo Chi sarà Niente Ci vediamo In questo video Di iscrivervi al canale Niente Ci vediamo In questo video Ragazzi Vi vediamo Gap alla mano Non possiamo cambiare il mondo Bye bye